Ciao da Apsim! Proviamo a capire ancora un po' meglio la situazione Allegri e il rapporto con la dirigenza della Juventus. Ad oltre 48 ore da Juventus-Fiorentina, 1-0 con quello che è successo e non è successo, e forse sì e forse no, nel tunnel degli spogliatoi, la sfuriata, lo sfogo, ma non è un litigio, ma non si sono insultati, ma sicuramente non sono venuti alle mani, e c'era giuntoli, non c'era giuntoli, e c'era un dirigente, e quale dirigente, di chi parliamo e di che cosa parliamo, ma Allegri in realtà non voleva insultare nessuno, non voleva attaccare nessuno, ha solo sfogato la rabbia e il nervosismo, l'ha fatto tante altre volte, non c'è nulla di nuovo, nulla di clamoroso, poi ha spronato i giocatori, perché ci tiene ancora, ha ancora le mani ben salte sul manubrio per portare questa bici in fondo alla gara, e quindi ci tiene alla Juventus, ci tiene agli obiettivi, quindi Max aziendalista, questa è anche un po' la narrazione che passa, e nel frattempo si cerca di chiarire, da parte giornalistica, la posizione di Allegri, addirittura è una posizione incerta, cioè non si è sicuri neanche se se ne va, perché potrebbe addirittura restare, essere confermato, perché forse la decisione non è stata ancora presa, quindi si cerca, da parte giornalistica, ripeto, non vado nello specifico perché dovrei essere troppo specifico, di raccontare una dirigenza che è spaccata, ancora, con questa storia di una dirigenza spaccata, dovrei essere troppo specifico, cioè dovrei citare troppi nomi, troppe fonti, e quindi in preparazione al prossimo episodio di Propaganda Max, che però devo ancora preparare, è inutile andare troppo per il sottile e troppo nello specifico, genericamente, perché riguarda magari tutto sport, ma riguarda anche tutto mercato web, ma magari trovi qualcosa anche su calciomercato.com, e poi c'è Gazzetta, e poi c'è Corriere dello Sport, cioè sono un po' tutti, un po' tanti, un po' troppi, che stanno facendo intendere come se la dirigenza della Juventus non è unica, non è unitaria, non è univoca, qualcuno vuole Motta, qualcuno vuole Conte, qualcuno vuole Allegri, non si sa ancora che cosa succederà, non è stata ancora presa una decisione, in tutto questo si sta dando implicitamente degli incompetenti ai dirigenti della Juventus. Ora, non è escluso che i dirigenti della Juventus siano degli incompetenti, però o si dice siete degli incompetenti, sono degli incompetenti, infatti non hanno ancora deciso, altra cosa è dire non hanno ancora deciso, però va tutto bene così ed è pure normale, normale cosa? normale cosa? Possibile che non si sia ancora deciso, addirittura si fa passare il contratto di Allegri come una garanzia della sua permanenza, perché lui potrebbe far valere il contratto soprattutto se raggiunge gli obiettivi, ma non si è mai visto che un dipendente decide da solo o ha voce in capitolo significativa sul proprio futuro e quindi eventualmente anche sul proprio licenziamento, perché di licenziamento stiamo parlando di esonero, è impensabile una cosa del genere, addirittura il contratto, la mancata proposta di rinnovo non viene fatta pesare alla stessa maniera del mancato esonero, cioè siccome non è stato proposto il rinnovo non significa nulla perché comunque non si è tenuti a discutere del contratto di Allegri perché tanto c'è un altro anno, cioè ormai veramente si sta facendo passare tutto il contrario di tutto, non so se avete letto, non so se vi siete resi conto, non so che cosa vi è arrivato, io ho fatto anche fatica a trovare un po' tutto quello che c'era da consultare, perché ne stanno parlando in tanti, ripeto ne stanno parlando in troppi, e sembra che ci sia in atto una strategia di copertura, di copertura, di insabbiamento, di depistaggio, cioè si cerca di cambiare il significato alle parole, si cerca di cambiare il significato alle situazioni, cioè Allegri ha un altro anno di contratto e sono mesi che lamenta questa cosa, come se avesse bisogno di garanzie e certezze per il futuro e anche di proposte di rinnovo, nessuno gli ha proposto nulla, ora finalmente lo si ribadisce, nessuno gli ha proposto ancora nulla, però far passare questo come la normalità rispetto ad un progetto nuovo che deve partire, ad una dirigenza che congiunto si sta arricchendo anche di nuovi elementi, adesso si parla di Costi, poi c'è appunto Stefanelli e si è parlato anche di Pompilio, quindi varie figure che devono entrare nella dirigenza della Juventus con Cherubini che se ne va, Manna che se ne va, e in tutto questo vogliono farci credere anche con il mercato che si è avviato con Felipe Anderson, i discorsi sul rinnovo, vogliono farci credere che non hanno preparato nulla e quindi tutte queste cose a quale progetto appartengono, a quale indecisione appartengono, perché se c'è immobilismo c'è immobilismo su tutto, se manca un'idea sull'allenatore manca anche un'idea sul mercato e sulla dirigenza, com'è che si sta rifacendo la dirigenza, però vogliono farci credere che la dirigenza è spaccata in due, quindi c'è una parte che però è destinata ad andare via, quella che si è spaccata evidentemente, però ci saranno nuovi ingressi, però non c'è un progetto e non si è deciso sull'allenatore. Allora qui o siamo di fronte al tentativo disperato ancora di riposizionarsi di qualche giornalista e di qualche giornale per continuare disperatamente a vendere un po' e ad avere un minimo di ascolti e a mantenere un minimo di credibilità, per cui si dice tutto il contrario di tutto e si passa da bianco a nero senza attraversare le varie sfumature di grigio, anzi si cercano di attraversare un po' le sfumature di grigio ma in maniera molto incoerente perché si rimane comunque legati o al bianco o al nero e quindi quelle sfumature di grigio non si raccontano per quello che sono, ma ripeto si cambia il significato alle parole oppure realmente c'è un vero e proprio attacco alla dirigenza della Juventus con una strategia ben chiara che è tutt'altro che ibrida, tutt'altro che grigia, tutt'altro che poco chiara e una strategia a quel punto potrebbe essere chiarissima. In che senso? Nel momento in cui si dice che c'è qualcuno nella dirigenza della Juventus che vuole Conte, che gioco si sta facendo? Si sta facendo il gioco del mischiare le carte, del creare confusione per mettere in difficoltà, quindi chi sta lavorando magari per Tiago Motta. Mettere anche tutti questi dubbi su Tiago Motta, Tiago Motta potrebbe anche restare perché il Bologna ci pensa, il Bologna ci spera, perché comunque Tiago Motta potrebbe portare ancora il Bologna è in Champions League, però poi si dice che comunque il Bologna sta cercando un sostituto e anche la Juventus sta lavorando per Tiago Motta e c'è chi dice che c'è anche un accordo preliminare praticamente cosa fatta. Piace il progetto, si è già delineato un po' tutto, si parla anche di mercato per esempio con Calafiori, ma anche con Zirk Zè, però Allegri potrebbe anche restare perché l'ultima parola è di John Elkan, perché in dirigenza non lo sanno. E poi nello specifico ci voglio entrare solo per citare tutto sport, perché abbiamo letto tutti quanti e lo ricorderete proprio anche da Propaganda Max, ma se ne è parlato anche su Live Bianconera qualche settimana fa, quell'articolo in cui si faceva intendere senza fare nomi che Francesco Calvo volesse Antonio Conte. Poi vediamo che Vaciago oggi dice che non c'è nessun dirigente della Juventus che vuole Conte, non c'è nessuna pista Antonio Conte ed è lo stesso tutto sport, due giornalisti diversi, ma sempre di tutto sport, mettetevi d'accordo mettetevi d'accordo, cioè qual è la situazione, qual è la verità, non possono essere entrambe non possono essere entrambe, non si può neanche dire no ma sono cambiati i tempi quello che abbiamo scritto due settimane fa adesso è cambiato, perché non è possibile che due settimane fa c'era una pista Conte e adesso la pista Conte viene completamente smentita allora qual è la verità e la sincerità, la sincerità e qual è invece la costruzione strategica per fare il gioco delle parti? La mia convinzione, ma ovviamente siete liberi e siate liberi, mantenetevi liberi di interpretare come meglio credete, senza farvi portare a spasso da nessuno, men che meno da me, senza farvi prendere in giro da nessuno, men che meno da me, che però va sicuro che almeno non ci provo, almeno non ci provo a prendervi in giro, perché forse ho poco chiara la situazione pure io per poter mettere in campo una strategia e appunto la mia sensazione è che qualcuno non riesce a mollare la presa su Allegri, quindi ci stanno ancora sperando ma sono disperati che possa restare e quindi vanno ad inquinare quello che dovrebbe essere il libero e proficuo e costruttivo operato di una diligenza che è tutt'altro che spaccata, che è tutt'altro che spaccata a questo punto e Antonio Conte non c'entra nulla, che poi lui si voglia proporre, si sia autocandidato mesi fa, è storia vecchia, è superata, è superata, nel frattempo quanti allenatori ha cambiato il Napoli? Due, perché Conte doveva andare al Napoli prima che cacciassero Rudy Garcia e declinò? Adesso sembra che si sia riacceso questa prospettiva, questo innamoramento tra De Laurentiis e Conte ma pure tra Conte e il Napoli, si vedrà quello che succederà ma è Tiago Motta il primo nome, forse l'unico per la Juventus perché forse è stato già scelto e di conseguenza si è già scelto che Allegri debba andare, io sono convintissimo che Allegri sia già fuori, hanno già deciso di cambiare allenatore e ne siete convinti anche voi, siete in tanti ormai esserne convinti e questa nostra convinzione non fa che rafforzare questo accadimento, non fa che rafforzare questo evento e quindi le contromosse a cui stiamo assistendo sono contromosse nell'interesse di chi? Di certo non sono nell'interesse di un sereno operare della dirigenza, sono delle contromosse che fanno il gioco di qualcuno, di una parte, andando ad inquinare l'operato sereno di una dirigenza che probabilmente ha già scelto e questo si vede anche con il calciomercato, si prova a mettere in difficoltà a Giuntoli, si prova a mettere in difficoltà la dirigenza dell'avvento rappresentata da Giuntoli che sta cercando di ampliare la propria squadra mettendo in giro nomi che probabilmente non hanno nessuna consistenza, tipo Zaccagni e soprattutto Morata, allora facciamo attenzione a queste cose, non ci facciamo prendere in giro, non commettiamo l'errore di attribuire a Giuntoli o a chiunque altro un'operazione e una scelta che non è stata mai fatta e che è stata invece attribuita dall'esterno per altri interessi, per altri interessi. Quindi quando si legge di Conte, di Motta e ancora anche di Allegri e di tutte queste incertezze, in realtà non c'è nessuna incertezza molto probabilmente, si vuole far credere che ci sia incertezza per far passare il messaggio che la dirigenza non è convinta non tanto di tenere o non tenere Allegri ma di come sostituirlo e quindi magari se lo tengono perché non sanno se prendere Motta o se prendere Conte e poi chi mette in giro queste cose se la prende con i tifosi che vorrebbero sia Motta sia Conte o l'uno o l'altro purché se ne vada Allegri e c'è incoerenza. Addirittura adesso l'incoerenza sarebbe dei tifosi che magari chi dice che vuole Conte non ha mai voluto Motta e chi dice che vuole Motta non ha mai voluto Conte, non li ha mai confusi e chi dice che non vuole più Allegri, non vuole più Allegri, punto e magari ha una preferenza che sono assolutamente legittime. È chiaro che siamo agli ultimissimi metri verso il traguardo, siamo agli ultimissimi giorni, siamo agli sgoccioli, il countdown è bello che è iniziato, sta pure terminando. Quindi tutto questo è anche prevedibile però è giusto sottolineare questo aspetto perché se no si crea caos, caos che fa male poi ai tifosi, alla tifoseria nel senso che ci si fa portare a spasso da tutta questa situazione e uno non ci capisce più nulla e poi va magari ad esprimere dei giudizi negativi nei confronti di una dirigenza che non sappiamo veramente ancora come sta operando ma possiamo intenderlo, possiamo intuirlo perché sembra tutto abbastanza pianificato nel senso di esonerare Allegri e prendere Tiago Motta. Sembra tutto abbastanza pianificato e lo so che io ho bocciato gravemente giuntoli mesi fa e per mesi perché quello che emergeva e si vedeva ed era fattuale non faceva pensare bene di lui perché sembrava essere arrivato per sostenere Allegri. Dopo, con il tempo, tutta una serie di situazioni e anche di dichiarazioni hanno assunto un'altra, tutta un'altra accezione, un altro possibile, verosimile significato ed ecco allora che siamo liberi di dire beh aspetta perché se è così allora è un'altra roba. Cioè se giuntoli ha elogiato Allegri in varie occasioni per mesi per togliergli gli alibi così che non potesse lamentarsi di giuntoli e della dirigenza è allora complimenti perché è stata una mossa saggia che poi si propaga fino ad arrivare al punto decisivo della cacciata dell'esonero mentre lavorando ai fianchi e sotto banco si portava Tiago Motta a Torino alla Juventus con un progetto ben definito. Evidentemente questo progetto non piace a qualcuno però poi questo qualcuno dovrà pure giustificarsi ai tifosi che nel frattempo gli hanno creduto sul fatto che sia dalla parte della Juventus oppure sia contro la Juventus perché certe strategie messe in campo va bene che uno si vuole ripulire la reputazione, va bene che uno si vuole ripulire la coscienza, va bene che uno si vuole ricollocare, va bene che uno vuole evitare disperatamente di perdere audience, seguito, followers, ascoltatori, lettori però se dici una cosa per tuo tornaconto, per tornaconto di qualcuno e questa qualcosa non è certamente nell'interesse della serenità e dell'operatività della dirigenza e magari sono anche delle pure e semplici invenzioni, dopo non è che ti puoi presentare a dirci a venirci a raccontare che cos'è la Juventus e che cos'è il meglio per la Juventus, ecco penso di essere stato abbastanza chiaro e non c'è forse molto altro da aggiungere, anzi forse non c'è nient'altro da aggiungere per il momento in questo 10 aprile aspettando ulteriori voci, indiscrezioni ma cercando di avere le difese, le autodifese per non farsi mettere nel caos e per non farsi prendere in giro e capire realmente come sta la situazione Conte viene accostato quindi alla dirigenza della Juventus e l'incertezza nella dirigenza della Juventus viene insinuata sostanzialmente per sostenere Allegri e quindi non ci facciamo abbintolare da chi evidentemente lavora non nell'interesse della Juventus che non sarebbe chiamata a farlo perché se parliamo di giornalisti bisognerebbe essere super partes ma non lavora neanche super partes e quindi nello scegliersi una parte si è scelto la parte contro la Juve è bene che sia chiaro. Grazie per la vostra attenzione, buon dibattito nei commenti soprattutto se ci avete capito più di me e ve lo auguro, ci vediamo molto presto e per il calcio voglio un allenatore Grazie 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 Grazie